Assessore, G Village è un progetto per la nuova imprenditorialità marchigiana che risponde anche alle esigenze di quella che è il piano di governo regionale, creare nuova occupazione. Sì, assolutamente. Questo progetto è un progetto meraviglioso perché valorizza le cosiddette knowledge companies, cioè quelle aziende ad alto contenuto innovativo. La regione Marche sta lavorando ad una legge regionale, Industria 4.0, perché dopo l'avvio del computer e la digitalizzazione di tutte le informazioni è sempre più diffusa l'ipotesi negli ambienti industriali, ma anche in quelli accademici internazionali, dell'avvento di una nuova rivoluzione industriale denominata 4.0, che prevede la trasformazione di tutti i processi industriali in ottica appunto digitale e che preveda l'interconnessione in tempo reale di persone, oggetti e cose. Questo progetto, il G Village appunto, si inserisce a pie pari in questo disegno di legge regionale. Anche a livello nazionale si parla di un'iniziativa per quanto riguarda la manufattura 4.0, quindi le Marche in un certo qual modo potrebbero anticipare anche quelli che sono gli orientamenti nazionali, essendo coordinatrice della Commissione. Certo, l'idea è proprio questo, da coordinatrice della Commissione, essere comunque precursore, comunque regione pilota all'interno di questo progetto nazionale a cui sta lavorando il MISE e che dovrebbe presentare a breve, che si chiamerà appunto Industria 4.0. Ovviamente troveremo anche delle risorse regionali, di approvazione del bilancio, proprio per dare avvio a questa legge, integrandole poi con quella a disposizione nella programmazione comunitaria. Ok.